Fino ai primi decenni dello scorso secolo, il tracciato del viale Trivulzio collegava la città di Agratebrianza con Villa Trivulzio a Omate, un percorso di circa un chilometro di cui oggi non esiste quasi più traccia, salvo le testimonianze presenti sulle cartografie storiche. Ma l'amministrazione di Agratebrianza ha deciso di provare a far rinascere il viale, riconsegnando alla comunità un percorso ciclopedonale alberato e con illuminazione di ultima generazione che vada ad arricchire con la storia, la cultura e la natura il polmone verde del parco agricolo nord-est. Si tratta della ricostruzione dell'antico viale Trivulzio, un viale ai tempi percorso dalle carrozze che collegava l'abitato di Agrate alla Villa Trivulzio di Omate. È un viale che nel corso del tempo è sparito, è stato sommerso, mangiato dalle coltivazioni, dei campi che si estendono attorno alla frazione di Omate e che da tanti anni hanno cercato di ricostruire in che modo? Con operazioni urbanistiche che portavano di volta in volta in dote pezzi di terreno, appezzamenti e proprietà per andare a ricostruire pezzettino per pezzettino proprio questo viale. Il progetto sarà finanziato per un milione di euro dal comune di Agratebrianza e 280 mila euro da Brianzacque per ricreare un affascinante cannocchiale nel verde e provare a ripercorrere anche la storia del viale. Un viale che quindi sarà comunque ciclopedonale, che collegherà le due frazioni e che permetterà anche di avere un percorso di rievocazione storica dei fastosi periodi in cui a Omate c'era la villa del principe Trivulzio.